Ho fatto sofferta anche perché, come dici tu, a una sola giornata dalla fine sostituire l'allenatore non è una cosa normale, però dopo la partita di ieri c'era bisogno di dare una scossa forte, i ragazzi lo sanno, ho parlato con loro questa mattina, ho parlato anche con Massimo, anche se non è che ci aspettiamo o vogliamo caricare la croce sulle spalle di Massimo, quindi lui sa che deve tenere questi 4-5 giorni la squadra tranquilla, è una partita sicuramente da dentro fuori, quindi loro sanno l'importanza, conoscono l'importanza, ma non è che bisogna buttarsi dal ponte per vincerla al primo minuto, quindi è una partita che ci può rimettere in corsa, lo sappiamo tutti e quindi proviamo anche questa. Serviva una scossa perché dopo la partita di ieri, le avete viste tutte, quindi non mi sembra che questa squadra abbia mostrato segni di grande vitalità ieri contro il Varese, contro una squadra che ha giocato praticamente con la primavera e non mi sembra nemmeno che la primavera del Varese sia tra le prime d'Italia, quindi perdere una partita come quella che abbiamo perso ieri per me è inammissibile, ma per tutti, anche per i ragazzi, purtroppo sapete che a pagare sono sempre gli allenatori e non 30 giocatori, i ragazzi sanno che le responsabilità sono equamente divise tra tutti, compreso noi della società, quindi c'era bisogno di questa scossa, l'abbiamo data, sperando che venerdì loro poi rispondano sul campo come si deve per rimetterci in corsa. Non è che noi cambiamo l'allenatore per una conferenza stampa, io cambio l'allenatore perché ieri ho visto una squadra che non ha dato nulla, non ha reagito a nulla e quindi solo per quello, non per la conferenza stampa, d'altronde il mister in quella conferenza stampa ha detto anche tante cose vere e quindi poi gli allenatori fanno le conferenze stampa e possono dire quello che pensano, poi non mi sembra che abbia detto qualcosa di particolarmente grave nei confronti di nessuno. Presidente, cosa ha pensato quando ha saputo che in squadra avrebbero debuttato tra i titolari due giocatori che finora non hanno stati mai praticamente impiegati, cioè questa può essere interpretata come una sorta di segnale di rottura da parte dello stesso Baroni? No, no, non pensate che Baroni sia impazzito da un giorno all'altro, in questi due esordi ci sono le motivazioni, Brugma non c'era, Zampano non stava bene, Pucino era diffidato e quindi in situazioni come queste il mister ha pensato, visto che sono ragazzi che vede tutti i giorni e quindi ha valutato la possibilità di farli giocare, non mi sembra poi che siano stati due giocatori che hanno fatto male ieri, anzi, magari avessero fatto tutti così. Non credo che sia la sconfitta di Sebastiani o della società, ma Baroni l'abbiamo preso e l'abbiamo deciso insieme, quindi al di là di tutto non mi sembra di addossare responsabilità a nessuno, d'altronde mi sembra che Baroni era l'allenatore che aveva fatto meglio l'altro anno tra gli allenatori giovani, quindi un allenatore emergente, la squadra è una squadra costruita con giocatori importanti, il programma che noi avevamo detto non era quello sicuramente di vincere il campionato o di andare in Serie A, siamo qua l'ultima giornata a giocarci la possibilità di entrare in questa griglia di playoff e mi sembra che, ripeto, che sia morto qualcuno, qui non è morto nessuno, abbiamo fatto il nostro, forse potevamo farlo meglio, però se piangiamo noi, ci sono squadre che hanno speso tre volte, quello che abbiamo speso noi, sono partite con il programma di andare in Serie A, non quello di cercare di fare un campionato buono, si stanno salvando l'ultima partita e noi qui uccidiamo tutto quello che succede. Questo è l'atteggiamento che a me non piace, sinceramente, perché se noi continuiamo ad essere così negativi su tutto, forse Pescara, non so se avrà un futuro molto migliore da questo. Presidente, ieri dopo la partita avete avuto un ulteriore confronto con Baroni, come vi siete lasciati in sostanza? No, non si tratta, io ieri ero molto incazzato e me ne sono andato via, ho parlato cinque minuti ma me ne sono andato via e poi ho preso la decisione insieme a Danilo e a direttori strada facendo perché ci è sembrato giusto fare quest'ultimo tentativo, perché ripeto, è una partita importante da dentro fuori e ce la vogliamo giocare con tutte le componenti al posto giusto, non che Baroni non lo era, ma dopo la partita di ieri qualcosa bisognava fare, una scossa bisognava darla e non mi sembrava, non ci sembrava che continuare ad andare avanti così potesse risolvere qualcosa tutto qua. Paga sempre una persona ma le colpe sono di tutti, non sono mica solo dell'allenatore, del presidente o di un singolo giocatore, le colpe quando le cose non vanno bene sono sempre da dividere equamente, i giocatori sicuramente si faranno un bel bagno di umiltà perché hanno capito forse che questo è un campionato dove di tacco e di punta non si va da nessuna parte ma bisogna veramente metterci qualcosa in più. Io sono abituato a guardare le cose una alla volta, adesso non voglio né bruciare Massimo Oddo né dargli la croce addosso, l'abbiamo chiamato e a differenza di qualcun altro ha risposto presente immediatamente, anzi qualcuno di voi l'ha scritto, era in viaggio verso la famiglia, ha rigirato il treno, non la macchina ed è tornato a pescare, quindi questo gli fa onore e mi fa piacere, però Massimo è uno della nostra famiglia ha iniziato quest'anno ad allenare la primavera, lo sta facendo con grandi risultati, i ragazzi lo seguono. Ho detto prima e questo gli fa onore a Massimo perché non ha chiesto nulla e non abbiamo manco dovuto parlare di nulla, Massimo lavora per il Pescara, sa che è dentro una famiglia che lo stima e quindi ha girato il treno e è venuto ad allenare il Pescara, poi per il futuro ci si penserà dopo. Ho chiesto quello che avevo chiesto quattro settimane fa, ho chiesto di fare massima attenzione in questo momento perché ripeto adesso ci sono quattro giorni e non è che c'è tanto da chiedere e neanche tanto da inventarsi perché qua gli scienziati non ce ne stanno, quindi sono tutte persone brave, di buona volontà ma non è che c'è bisogno di inventarsi nulla, di fare quello che sanno fare in campo, di prestare attenzione e di buttare magari il cuore oltre ostacolo per questa partita ma senza l'assillo perché con l'assillo non si va da nessuna parte.